Arturo Benedetti Michelangeli, questa è la prima foto ufficiale del primo corso di perfezionamento, 53. 20 anni fa moriva in esilio volontario a Lugano il grande pianista Arturo Benedetti Michelangeli, legato ad Arezzo per i suoi corsi di perfezionamento organizzati dagli Amici della Musica. Una storia che lega la nostra città a questo grande artista il cui piano è ancora conservato al Teatro Petrarca di Arezzo. Adesso sarà un DVD realizzato dalla Fondazione Settembrini con la collaborazione di Estra a ripercorrere questa storia che sarà consegnata nelle mani degli studenti aretini. L'evento di presentazione promosso dal Comune di Arezzo in collaborazione con il Liceo Musicale si è tenuto nell'aula magna del Liceo Francesco Petrarca di Arezzo. Ho frequentato i corsi del maestro Arturo Benedetti Michelangeli, appunto qui ad Arezzo, i corsi estivi e a Moncalieri, quelli invernali. E ho conosciuto moltissimi allievi che provenivano da tutte le parti del mondo, Australia, Sudafrica, America, poi c'erano anche gli italiani logicamente. Per me è stata una soddisfazione enorme in quanto lui mi ascoltò, mi giudicò molto bene e mi prese con sé per tre anni.